Credo che la situazione di Pachetà sia stata chiara a spiegare quello che è successo e per quanto riguarda le ricreazioni di Papà Di Pionte, che sinceramente non ho niente da commentare, mi interessa. È vero che abbiamo affrontato una partita difficile, dal punto di vista tecnico sicuramente non abbiamo messo in campo la miglior prestazione possibile, ma abbiamo dimostrato di avere adesso una mentalità giusta, di sapere stringere i denti, di sapere superare i momenti difficili, di avere la consapevolezza e poi di avere la qualità e le possibilità per poi vincere le partite. Io parlo dei giocatori che ho a disposizione, sono contento del lavoro che stiamo facendo, dobbiamo assolutamente continuare, il campionato è molto lungo, le partite sono molto difficili, come abbiamo potuto constatare anche oggi, quindi ci vuole tanta attenzione e tanta qualità nel nostro lavoro, questa è l'unica cosa che conta. Ha fatto benissimo, sta bene fisicamente e mentalmente. È un giocatore che sa dare i giusti strappi e sta avendo una grande efficacia anche in fase realizzativa. Grazie. Grazie.